Si è tenuta nell'Aula Consigliare di Eboli la presentazione del progetto Educarea ideato nell'ambito dell'avviso pubblico Scuola di Comunità che ha come ente di formazione capofila la MG Media di Massimo Giusti. L'iniziativa è rivolta agli alunni di Eboli e Battipaglia attraverso anche la realizzazione di laboratori ad hoc. Il progetto Scuola di Comunità dal titolo Progetto Educarea coinvolge vari istituti dal liceo scientifico Gallotta al liceo classico Perito Levi all'istituto commensivo Vigilio e all'istituto commensivo Fiorendino di Battipaglia. Praticamente la finalità del progetto è quella di affrontare le problematiche collegate alle utenze al disco di dispressione scolastica di povertà educativa e culturale. Praticamente il progetto si sviluppa su tre azioni. A. Educazione alla legalità e supporto scolastico B. Sostegno alla cittadina e C. Animazione territoriale Nei vari istituti che ho menzionato poco fa verranno divisi per varie azioni di tipologia A, B e C. Diciamo che quello molto interessante è quello lì sulla genitorialità dove praticamente apriremo un corso di formazione per tutti i genitori per avvicinarli alla scuola delle problematiche dei propri figli all'interno di vari istituti scolastici. I progetti che praticamente vengono portati avanti dai vari istituti con la cooperativa, io farò con la cooperativa Eccanico, l'associazione Sincronia, praticamente allo scopo di far valorizzare e far capire quelli che sono i vari laboratori che noi stiamo realizzando e che andremo a realizzare. Tra il corso di Web Citizen Journalism dove praticamente comprende oltre all'approfondimento della carta stampata ma anche sul web e quindi blogging per capire un attimino quali sono le fake news portate avanti da esperti del settore con delle visite guidate sia in redazioni come la città che come televisione, come su due tv. Quindi comprende anche uno stage in queste due, sia testata giornalistica che televisiva. Il laboratorio del mio territorio dove è finalizzata la conoscenza dell'aspetto storico e geografico del territorio alla valorizzazione delle risorse a tutela dell'ambiente attraverso la promozione di comportamenti ecologicamente corretti. Poi abbiamo il laboratorio di cittadinanza reale e cittadinanza digitale. Questo prevede una formazione di una coscienza civica partendo dai concetti di Stato e nazione, di democrazia e rappresentanza sottolineando la solidarietà politica, economica e sociale. Particolare attenzione per l'apposta sugli aspetti della cittadinanza digitale. Inoltre abbiamo anche un altro laboratorio di artigiano e artigianato digitale dove il laboratorio mira il recupero dell'identità storica attraverso le tradizioni con un'ottica innovativa e alla formazione, alla conoscenza e all'utilizzo dell'e-commerce. Mentre il sostegno alla genitorialità si divide in varie fasi di crescita. Un alunno può sperimentare momenti di disagio emotivo e relazionale che possono portare ad allontanarsi da quello che è il contesto scolastico e quindi andare a veicolare con i genitori quelle che potrebbero essere delle mancanze o dei traumi che potrebbero subire all'interno degli istituti.